Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Forse non è un caso che ci sono due interviste oggi. No, interviste non ce ne sono, nel senso che sono state riportate delle dichiarazioni. Io ho fatto a un'intervista che era di tutt'altro genere e natura, in cui il messaggero mi ha fatto anche la domanda sulla regione Lazio, giustamente, perché a febbraio si voterà. Io appartengo a questo territorio, al territorio romano e laziale, e quindi era, secondo me, abbastanza fisiologico che la facesse. Non ci ho trovato niente di scandaloso. E ho risposto quello che ho sempre risposto, nel senso che io sono disponibile a fare quello di cui c'è bisogno. Decideranno i leader nazionali, il Presidente del Consiglio in primis. Quando faremo le valutazioni del caso si stabiliranno i destini. Quando si stabilirà? Visto che, come giustamente lei ha detto, tra poco, insomma... Penso che dopo il G20 ci si comincerà a mettere la testa, fermo restando che anche dall'altra parte del campo non è che ci sia questa linearità, insomma, perché c'è grande confusione sotto le stelle a sinistra. L'ultima volta con il candidato a sindaco Michetti non andò benissimo, diciamo. Lì facciamo noi un calcolo molto preciso, perché qualche voce maliziosa raccontò una versione del tutto strampalata secondo la quale addirittura il centrodestra aveva candidato Michetti perché voleva perdere le elezioni. Noi già, diversamente dal 2016, compatti al primo turno, avevamo la matematica certezza di andare a ballottaggio. E quindi abbiamo puntato su una figura terza che potesse, in sede di ballottaggio, intercettare i consensi, diciamo, del mondo moderato o addirittura dell'altra parte del campo, cioè qualche consenso proveniente pure dal centro-sinistra. Questa operazione, che comunque aveva una chiara indicazione strategica, non è riuscita... Poi siamo tutti buoni a fare, diciamo così, a esprimere giudizi col seno del poi, però aveva una chiarissima indicazione strategica. Ed è pronto a correre. Se serve, sanità domiciliare è la priorità. L'intervista a Fabio Rampelli. Questa è quella del messaggero? Sì. C'è appunto una domanda sulla regione del Lazio. L'intervista era sull'Europa, sull'immigrazione, sul governo. E i giornali di oggi probabilmente riprendono quell'intervista perché io non ho fatto altre interviste. Comunque lei dà la sua disponibilità. Dando anche le priorità di cui si occuperebbe, visto il titolo. Le priorità. Quando mi hanno fatto la domanda sulla regione del Lazio, il 70% delle risorse di una regione sono comunque indirizzate sulla sanità e quindi è stato indispensabile giudicare l'operato della Giunta Zingaretti in modo particolare proprio su questo campo. Io ritengo fallimentare. Perché al di là dell'emergenza Covid poi c'è l'ordinaria necessità di tutelare il diritto alla salute dei cittadini e il diritto alla salute dei cittadini è stato un po' trascurato, se vogliamo essere generosi. E non è un caso che di là il nome di cui si parla, quello di D'Amato, no? No, perché la campagna vaccinale nel Lazio ha funzionato bene, però è vero che la sanità di una regione non è solo la campagna vaccinale durante il Covid. Infatti il centro-sinistra sembra aver trovato peraltro una compattezza su Alessio D'Amato, che avrebbe anche il supporto del centro, diciamo, di Calenda. La partita del Lazio secondo me è importante per il centro-destra perché è chiaro che ha anche la responsabilità di dimostrare non solo nel Lazio ma anche nel Lazio di avere una classe dirigente che è in grado di esprimere delle personalità capaci di amministrare. Nel nord Italia ci sono le regioni a trazione leghista, il Giovanni Totti in Liguria, in Sicilia adesso appunto un presidente che viene da Forza Italia, Schifani. il Lazio è una partita di Fratelli d'Italia e quindi forse anche fuori dalla logica del Papa straniero c'è ogni volta questa idea che si debba pescare dall'esterno. Michetti andrò andommale, le ricorda Onorevole che fu anche un candidato dibattuto dentro la maggioranza perché c'era dentro la maggioranza chi diceva che era un candidato debole proprio per raggiungere l'obiettivo che le diceva. Poi gli elettori hanno dato ragione a chi non voleva Michetti candidato. Quindi adesso, insomma, forse non serve il Papa straniero, basterebbe che nella classe dirigente di Fratelli d'Italia, nel Lazio, in chi segue il territorio da mesi, da anni, in esperienza ultradecennale, possa misurarsi con il consenso degli italiani perché il vento comunque, come dire, vi è favorevole. Quindi perché non tentare questa esperienza anziché cercare magari il coniglio nel cilindro che poi talvolta si rivela un coniglio un po' zoppo. Valerio.